non sono arrivato prima nella stagione degli invasori e ciao a tutti grazie di questo mio canale e benvenuti su angry shark evolution come potete vedere è finita la stagione degli invasori io ho fatto 399 uccisioni versus morti e non sono arrivato primo però sono arrivato un bellissimo secondo posto qua abbiamo mister nappi che ha lo scontino noi ci prendiamo la nostra ricompensa giornaliera e abbiamo i soldi per comprarcelo è il momento di avanzare con abishark abishark come molti di voi sanno è uno degli squali più difficili da aumentare di livello vi voglio annunciare che domani uscirà il mio video che parla della nuova patch di dicembre su ride shadow quindi aspettatevi un video su ride entro domani circa ok ragazzi oh 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 qua c'è un leo ok io ho perso tipo 20 milioni di volte il mio account meno male che poi sono riuscito a recuperare i miei progressi però comunque questi sono dettagli ok è molto molto forte la sua mossa quando c'è del dorado fa pure il controllo mentale che comunque non è male e ripeto non è male però cioè fa soltanto io immaginavo che il controllo mentale fosse stato che attira a sé tutte le prede ma in realtà non è così cos'è sto coso cos'era boh sarà un evento di dicembre perché si sta avvicinando il natale hanno messo queste cose ma è stranissimo cosa sono queste cose cos'è vei guardate hanno aggiornato i gran granchi ragazzi voi che non sapete di più scrivetemelo qua sotto nei commenti e se ci buttate vi saluterò nel prossimo video ok qua abbiamo altre b shark veramente veramente tanti soldi abbiamo guadagnato ben 30.000 monete da dall'evento se arrivavo prima se arrivavo prima ne guadagnavo 50.000 che comunque era meglio però comunque vedete questo qua il controllo mentale che fa stare fermi tutti però non è che li attira a sé li fa stare fermi e basta non è tanto male questo controllo mentale però ecco si c'è di meglio ma molto molto di meglio ma veramente tanto di meglio cioè non poco veramente per esempio chargira secondo me è molto più forte di abishark o cos'è sto coso oddio cos'è ma ti lancia le bombe ma babbo natale è cattivo mamma mia samuel e shak chi sei tu perché sono iscritto al tuo canale ma perché mi lanci le bombe babbo natale vieni qua ma perché fa queste cose niente babbo natale è diventato assassino ok scendiamo giù speriamo di beccarlo no adesso ci facciamo una bella ci mangiamo un po di roba 30 milioni di punti vabbè vedete che adesso rifacciamo il mio record lo abbattiamo babbo natale è una questione di principio ti devo distruggere ma non si distrugge ma non si distrugge babbo natale oddio ragazzi cosa fa come si fa a distruggere come si fa ma perché ti lancia le bombe babbo natale ma dai abbiamo mangi oh l'abbiamo distrutto ragazzi l'abbiamo distrutto abbiamo ucciso babbo natale mamma mia abbiamo ucciso babbo natale oddio ragazzi questo video finisce qui spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo in un altro video ragazzi ciao